dai prova che saltiamo fuori di là si si praticamente parte da lì ma non qui c'è la strada che va su a cosa ci hanno buttato dentro di tutto quindi parte da qua si finisce sì perché lì sopra sicuramente va avanti un pezzettino ma che bella si chiama lei ok 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 Grazie a tutti.